Calma ragazzi! Snyder cerca la manovra e cambia tutto sulla destra per Eto'o, buono il controllo, uno contro uno con Felipe, attenzione cerca di andare dentro da Leone, palla ancora per Wesley, Wesley potrebbe servire Maicon, palla buona, il Colosso va dentro, cross di prima, Minito è gol, 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 il principe, il principe, adesso deve vincere là, uno a uno insistere, bravi, bravi, bravi dice José Murillo, oh, grande azione, guardatela, op, la palla di Maicon regolare la giocata di Minito che mette in tap-in in rete, Inter ha il gol dell'1-1, 1-1, meritatissimo, 1-1, forza ragazzi, non fermiamoci, forza ragazzi, non fermiamoci, forza ragazzi, non fermiamoci. Ripartiamo ancora con Wesley che controlla questo pallone, il lancio immediato per Milito, può andare in aria, è solo Milito, il tiro fuori, fuori, fuori al 31 solo. Balotelli, colpo di tacco ancora per il Releone che entra in aria, toccato in maniera irregolare. E' pronto Wesley, parte il suo tiro, alto, alto, alto. E palla buona per Snyder, andiamo in ripartenza, attenzione al fuorigioco di Etò, attenzione al fuorigioco di Etò, allora palla larga per Mario. Mario dalla destra, il suo cross per Eto'o, il tiro Eto'o 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 Eto' Eto'o Eto'o Eto' entered in vantaggio la grande ripartenza l'assist di Balotelli Eto'o arriva sotto misura e batte Frey per il gol dell'1-2 grandi ragazzi 1-2 Samuel Eto'o undicesimo gol in campionato per lui undicesimo gol in campionato per lui diciannovesimo per invece il principe Milito forza ragazzi Grazie